Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Caltanissetta che nei giorni scorsi durante un servizio di controllo economico del territorio hanno notato e visto l'espositore all'interno di uno store di un noto centro commerciale cittadino che aveva una variegata quantità di mascherine in vendita. Mascherine che non avevano i requisiti sia formali che tecnici previsti dalla legge, quindi irregolari. Un sequestro da 12.913 dispositivi di protezione non a norma che avrebbero potuto avere conseguenze potenzialmente dannose e pericolose. Sempre i finanzieri a Mussumeli hanno individuato e sequestrato oltre 3.000 articoli pirotecnici sprovvisti delle indicazioni per il consumatore e del marchio CE che certifica e garantisce la qualità e i requisiti dei prodotti come previsto dalla normativa europea. Le operazioni di servizio condotte dalla Guardia di Finanza si inquadrano nell'ambito delle iniziative coordinate dal prefetto di Caltanissetta e in raccordo con le altre forze di polizia per preservare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, ritirando dal mercato prodotti pericolosi per i consumatori e per garantire la concorrenza tra gli operatori commerciali del territorio. Grazie. Grazie. Grazie.